Io, inizia il torneo di qualificazione, Terry, Andy e Joe, P.O. Joe, Andy per ultimo, e via. Chi si ricorda quale mosse? Solo un team può innalzarsi di fronte agli altri e vincere. Ci siamo capiti. Beats Resort al Sunset, ovvero al tramonto, se mi sbaglio. Mamma mia, K-Dash. E io è da tanto che sono qua, ciccio. È dalle 13.40 che sono qua. Anche di più. Pezzo di schifo, toh. Infamone. Eh, vabbè, cominciamo con sti qua che fanno sti figade. Uppercut, tirati i cruzzi. Eh, vabbè. Non devo scherzare che gli leggo, se no non farò mai la super. Aia. No. Allora, da lontano potrei utilizzare questa tecnica. E ho fatto tre hit, godo. Arrivederci, K-Dash. Vittoria di Zoigashi, che sbaraglierà tutti da solo. Amma mia, whip. Aia. Aspetta un attimo, che non mi ricordo se è col calcio. Esatto. Questa che ho pugno, e quella... È l'altra col calcio. Mamma mia, 7 hit combo? Non ci credo. Beh, non so se rendo conto le 7 hit combo, 10 hit combo. Amma mia. Come vedete, ho fatto un super minimo di... A destra allenamento, con i personaggi. Giusto per vedere un attimino le mosse, e... Scherziamo va, se no andiamo più avanti. Abbiamo capito un po' di più le robe. Maxima, se mi vai, è un personaggio che proviene da un altro videogioco. Non vorrei dire una cavola data. O, Maxima, l'hanno inserito in King of Fighters, ma doveva essere il personaggio di un altro videogioco. La roba del Z. Una delle due storie, non me la ricordo. Qua, faccio molto meglio a fare con... Aia. No, non mi ricordo qual è la combo. Mamma mia, Prisio spappolato. Maxima, ti prego, magia. Joygashi sbaraglia tutti, e non fa neanche scendere sul campo di battaglia Terry Andy. Troppo forte. Eh, porto sulle spalle il ricoglio dei miei Agevi, è di tutto sollevante. Dovevo per forza vincere. Terry Andy erano là al bar, là dietro, dentro, perché ovviamente siamo al tramonto ed era chiuso. E ci siamo pieppati, è un bel livello S. Allora, secondo turno. Proviamo Andy. Più almeno li proviamo tutti e tre. Secondo scontro. Contro il Team G.A.W. Hyper Galaxy Ring. Aia. Ma mia, ero abituato con il coso, con l'allenamento che avevo la barre al massimo. Invece, dobbiamo far sulle barre noi. Aia. Ma volendo quel cazzo matto di calzola in aria, posso farlo io stesso? Aia. Perché adesso mi sono tanto abituato a fare... Aio. Mamma mia che non mi ricordo la combinazione. Ecco, l'ho fatta, però giustamente separato. Allora, una col calcio, l'altra non mi ricordo se era col pugno o con l'altro. Allora, sembra anche che è giusto che le sfide vengono e partono via subito. Aia. No. Sarà col pugno? Sì che è col pugno. Andy, fince subito. Sconfitto, super campione. E schiazziamo A. Amma mia Tiger. Anzi, Ramon. Che becchiamo sempre, credo, tipo secondo scontro. Aia. Yeah. Aia, Ramon. Non va tanto bene quello che stai facendo. Bastardo. No. Tirati di qua non sono buono. Aio. Arm drag. Buona vittoria. Ecco, forse a Terri che non mi ricordo le pombo. Power wave. E invece l'ho fatta subito ma non ero vicino quindi non l'ho beccato. Aia. Amma mia che stress. E va bello però con sto figa de power geyser. E sto qua che mi fa jeden arm su flex. Che motto preso. Power wave. Mamma mia che stress di un uomo che sei Ramon. Guarda. Fatto e finito. Lui là là. Che aio, Ramon. Mi stai ciurlando nel torbido, eh. Mi stai ciurlando nel manico, eh. Mamma mia mi ha distrutto. Super arm drag. Super bulldog. Super bulldog. Ma mi è viva Mexico. Ma io porto l'onore del sollevante tutto dinnanzi a me. E quindi non lo posso permettere che io passi. Targo che mi ha passato dietro. Ok. Ho perda. Praticamente non abbiamo subito danno. Mamma mia è il re dei dinosauri. Non ci sta scritto King perché non ci stava scritto. Aia. Vado. Ok. Hai il suplex. Meramica col calcio. Oh. Ma. Oh che mamma fa un culo. No. Perché devo andare a perdere tentando di fare le mosse. E vabbè che mi prende da dietro. Vado. E vabbè che mi batte così. Sto stronzo subito con. La rivincita. I deboli si inchinano ai potenti. Potere e giustizia. Cioè potere e male. Un attimo. Cosa faremo con male? Colossale? Non è una storia che mi ha diseggiato. Cosa faremo con le nostre opinione. Cosa faremo con noi? Non è un'unico. Pteranodondo? Hmm. Quagal direzione fa una scopla. Ma sicurerza ne condividi. Cosa? Ma che ci dicono? Non è un'unico di diocchio è un'unico di loro. Ho. Laieve dei diocchio. Loro ci sono... Ma ma mia. Non sono unico diocchio. a vedere perché altrimenti rovinerei questo bellissimo cribio attiva la max mod perché prima mi si attivava sempre c'è un crispino aio ok così sto punto un momento eh esatto, aia ma mi sa che è in avanti e vabbè ma questo mi ciurla un pochino nel manico eh ah ma mia perché tu sta cazzo del powergazer sarò io che forse se non mi prendi da dietro e estinguerò forse ci proverà Joe ad estinguerci a meno che ti astro l'ha vista io bro non deve essere facile essere King of Dinosaurs se c'è anche qualcuno con cui parlare fammi sapere sono libero mercoledì e venerdì per ogni soluzione di terapia essa è il nostro foto attena mai più io perché se voglio demanare le mani Terry me lo lascio per ultimo Andy e Terry terzo scontro contro il team delle supereroine alla Provence la strada principale della Provenza assolutamente assolutamente sì anche perché qua spero che non ci sia tanto ingorgo perché altrimenti sono cacchi becca questo signorina in questa bella piazzetta spero di non farla sfigurare troppo anche se ormai come dire mi sta a sfondare devo ricordarmi di tirare più secchi dell'acqua fredda addosso alla macchina di tuo fratello dobbiamo magari almeno ti dimentichi di allenarti tarda e mi ha pure preso eh non l'ho presa non l'ho presa con anche la prima parte di controllo e mi ha fatto più danno troppo aia perché mi partono gli sconti difficolti e questa mi ha già distrutto ma Zoi Gashi vince il primo scontro FIABALL FIABALL SACCOBALL madonna mia oh eh ti sarebbe piaciuto beccarmi fai quel cazzo di salto matto eh ma ma cosa cacchio ablaudita là dietro come vi eh però quella col cappello ti fava per me eh non è vero ah ah io eh signori signori ah mamma mia godo godo max yeah ogni tanto ce la faccio fare la roba con la cosetta ogni tanto invece mi tocca farla con l'analogico perché altrimenti mi entrano le cacchio di combo vittoriosa di Andy cacchio di seguiti di si 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 sessile di n ha pi mai si 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 di si si Non è un'altra cosa, non è che non si deve fare a spostare di che, il loro volo e il loro volo Stai il giro, si è pronti? Vai! Signore Andy, alla miseria quanto cazzo cazzata questa qua che è da anni che vuole sposare Andy, ma lui giustamente non ammolla a coso, non si vuole far imprisionare, ma non ti stare tanto tranquillo Andy, guarda che vaffanculo, se non la pigli te dopo, ci sarà quello là che te la ciula e la prima, al primo tentativo gli chiede di sposarsi e lei te la farà sotto gli occhi, nel senso che non te sposa te, obbecille, non credo sia un brutto partito la signorina Mei, ecco, certo, magari d'inverno si potrebbe anche vestire in un altro modo, giusto perché così a me non si becca le bronco, volmoni, eccetera eccetera, dico per la sua salute, mamma mia che l'ho bloccata, per la mega vittoria, se non entrava quel blocco avrei perso, ho più esperienza ora come te, ma ancora tanta strada da fare, teniamo questa conversazione per un'altra volta e facciamola in privato, maledizione, non lo deve sapere nessuno ebbè, questo qua potrei anche schipparlo, perché credo che sia dove è uguale, schiediamo tranquillamente, se arriendi mi lascio già ultimo, bravo Yashiro, bravo, bravo, parla, parla, quarti, semifinale, la sala del concerto, mamma mia quanto mi stanno sulle valle quelle in fondo, tu sei solo fortunato che non mi ricordo come si fa una parte di supercombo finale, mamma mia quanto l'ho sentita sta cacchio di canzone, a guardare i video di quelle che hanno giocato la beta, che era uno degli stage che c'era disponibile durante la sessione di prova, aia, no perché ho usato il cribbio, mi spesciamato, nazza, dai Terry distruzziamo questo è il primo posto per cortesia che così almeno lasciamo gli altri un attimino tranquilli, per cortesia, aio, e becca questo, mamma mia che conclusione abnorme, Power Gaze venga qua signorina Chris, quante volte che l'ho vista in these days anche lei, porca la miseria, pure Yashiro che era un personaggio della prima sessione di prova beta online, PlayStation 4, PlayStation 5, aia, oh perché allora mi ho messo fermo io e aspetto che gli attaccano perché due coglioni, oh, ma io devo andare a vedere due secondi in attima perché mi stanno girando i coglioni, ah è doppio avanti, semplice, 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 Dio mio perché non l'ho beccata, premio, e siamo pari, mamma mia che ti ho beccato anche se non totalmente, propriamente, super lettamente, perfettamente, mamma mia mi ha preso, con quella super brazo, aia, mamma mia che mi ha tirato su metà, godo, no, beh, tu a uno, anche l'altro fratello, Bogart, vince uno scontro, buongiorno, scerni, anche lei per, porca io, anche lei per caso vuole, non lo so, una promessa di matrimonio, o le va bene anche una toccata e fuga, non lo so, basta che non si sente mai, altrimenti sono cazzi amari, soprattutto per me, yeah, se vuole le, le, come si dice, le offro una, cintonic qua, nella sala VIP di quei due filaghetto, in amicizia, mi hai scosso, ma non ha, ma non abbastanza da bec, poc, tac, tim, vanta, cho, le, bec!